Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EvryEye.it che vi permette di tenervi sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo videoludico. E oggi cominciamo subito da Assassin's Creed Unity. Infatti l'insider di Ubisoft, Shinobi, ha recentemente rivelato che il gioco comprenderà una campagna cooperativa per quattro giocatori, dotata tra l'altro di una trama esclusiva e slegata da quella principale del gioco. Sembra tra l'altro che Ubisoft sia intenzionata a rilasciare due demo per il gioco, quindi una per la campagna singolo giocatore e una invece dedicata a questa cooperativa per quattro giocatori. Noi potremo saperne di più molto probabilmente alle tre di quest'anno, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre pagine. E si ritorna a parlare di Resident Evil 7, grazie a delle rivelazioni del quotidiano giapponese Sankei Shinbun. Sembra infatti che Capcom sia intenzionata a svelare al pubblico il nuovo capitolo proprio durante l'E3 di Los Angeles di quest'anno. Sembra anche che abbia già fissato delle aspettative di vendita intorno ai 5,6 milioni di copie, che guarda caso sono proprio i risultati ottenuti dal predecessore. Si rumoreggia tra l'altro che il gioco non sia un'esclusiva Xbox One come inizialmente si era pensato, ma che sarà destinato anche a PlayStation 4. Naturalmente verso metà giugno potremo svelarvi tutto. E dopo la conferma di The Last of Us su PlayStation 4, sembra che un'altra grande esclusiva PlayStation 3 sia pronta ad approdare sulla next gen. Infatti l'utente Dragon Bane di NeoGAF ha recentemente pubblicato delle immagini che sembrerebbero suggerire l'arrivo di Beyond 2 Anime, il gioco di David Cage, proprio su PlayStation 4. Ancora naturalmente conferme non ce ne sono, ma vi informeremo di qualunque sviluppo in tal senso. Arc System Works ha finalmente svelato quali sono i piani per la versione europea di Blast Blue Cronofantasma. Il gioco verrà rilasciato sul PlayStation Store proprio questa settimana, probabilmente mercoledì, ma non sarà accompagnato da una versione retail purtroppo, a differenza di quanto è invece successo negli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece la versione PlayStation Vita non si sa ancora nulla e non ci resta che aspettare delle notizie in merito. E in maniera senza dubbio inaspettata, Bandai e Namco ha annunciato che Tales of Hearts R verrà rilasciato anche in Europa e Nord America nella sua versione PlayStation Vita. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la versione retail sarà un'esclusiva di GameStop, ma il gioco sarà anche scaricabile normalmente dal PlayStation Store. Ancora mancano i dettagli per la versione europea. L'arrivo è previsto invece per questo inverno. E passiamo come sempre alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana va sicuramente a Square Enix e a Hitman Go. Il gioco per mobile ci è veramente piaciuto. Richiede un'attenta pianificazione e prevede molta strategia, ma allo stesso tempo è davvero immediato e divertente. E quindi gli sviluppatori sono riusciti davvero a condensare tutta l'esperienza di Hitman in un gioco molto diverso, ossia un puzzle game. Davvero degno di attenzione per tutti i possessori di piattaforme iOS e presto anche Android. E il flop di questa settimana invece va a The Elder Scroll Online. Il neo rilasciato Morp di Bethesda ha infatti visto in questi giorni lo sfruttamento da parte degli utenti di un grosso bug che ha permesso a diverse persone in gioco di guadagnare milioni di monete d'oro, schardinando così completamente l'economia di gioco. Naturalmente la casa sta già procedendo con ban e fix, però sicuramente non sarà un problema di facile soluzione. E per l'edizione di oggi è tutto. Noi, come sempre, vi diamo appuntamento a giovedì.